Ciao Grigliere Duro Crew! Oggi parliamo di spiedini! Lo spiedino è sicuramente uno dei classiconi della grigliata italiana. Nei supermercati troviamo gli spiedini misti classici tradizionali, ma adesso la figata è che ognuno può crearsi il proprio spiedino marinando carni, facendolo misto di più carni, solo pesce, verdure. Infatti noi di Grigliere Duro abbiamo pensato proprio a voi. Abbiamo selezionato questo kit di 6 spiedi che è veramente veramente una figata e adesso vi farò vedere le caratteristiche. Vi arriverà a casa questo bellissimo astuccio dove trovate dentro tutti i 6 spiedini. Ora vi faccio vedere come troverete la confezione, sono tutti imbustati singolarmente, andiamo a tirar fuori e c'è anche la protezione per la punta, che questa potrebbe anche essere riutilizzabile in modo che non andiamo a rovinarla magari nel tempo. Lo spiedo è in acciaio inox, può essere tranquillamente lavato in lavastoviglie e ha una forma appiattita in modo che anche quando lo girate la carne non scivola come nello spiedo di legno e oltretutto essendo in acciaio inox non brucia, che è una cosa molto importante. L'ulteriore plus qual è? Questo spiedino ha questa parte finale che è bloccata, però poi cosa si fa? Si va a premere e fa scivolare tutto il contenuto e quindi andate a tirar fuori tutta la carne o il pesce in un'unica mossa senza stare lì con la forchetta o a sporcarvi le mani. Visto che parliamo di spiedini, mica sono qui solo a farveli vedere. Andiamo a farci anche una bella ricetta e quindi adesso vi faccio vedere un bello spiedino misto classico con una marcia in più. Prima di andare avanti ti ricordo di mettere mi piace, iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina per supportarci e rimanere aggiornato. Partiamo quindi con la ricetta proprio del più classico degli spiedini. Quindi andiamo a fare dei bocconcini con il petto di pollo, gli diamo un po' di grassezza con la pancetta e la salsiccia a tocchetti e ci tocca poi anche un po' di verdura, quindi un pezzo di cipolla e un pezzo di peperone che ci sta sempre bene. Partiamo subito, allora andiamo a pulirci il peperone. Questo è subito pulito, pochi semi in giro, tecnica del nostro amico Ale. Vado a crearmi quindi dei quadratini. Vado a fare la stessa cosa con la cipolla. Io la taglio in quattro così almeno posso farmi dei pezzi di questa dimensione che sono perfetti per il nostro spiedino. La salsiccia facciamo dei bei pezzettini. La pancetta è uguale, vado a tagliarla a pezzi. Più o meno fateli tutti delle stesse dimensioni, salsiccia, pancetta, verdure, così almeno lo spiedino sarà tutto della stessa dimensione. Per ultimo il pollo, anche qui andiamo a fare dei bocconcini in questo modo. Taglio a metà il petto, magari tiro via la punta se voglio proprio fare il precisino, e vado a crearmi i miei bei bocconi. Uno, due. Abbiamo porzionato tutti i nostri pezzi e andiamo a crearci il nostro spiedino. Quindi prendiamo lo spiedo, andiamo a prendere prima la salsiccia, che fa una bella base grassa. Una cipolla. Andiamo a mettere il pollo. Dopo il pollo, la pancetta. Così è bella grassa e mi tiene umido il pollo. Se magari è un po' grossa, andiamo a piegarla e così rimane bella. Andiamo poi a prendere di nuovo una verdura e ripetiamo tutto qui. Ok, quindi abbiamo il nostro bellissimo spiedino, bello misto, creato da noi e pronto per andare in griglia. Ah, dimenticavo, un peperone di chiusura ci sta sempre bene. Pronti i nostri spiedini, ho deciso anche di fare una sorta di sarmoriglio da spennellare in cottura sugli spiedini in modo da insaporirli per bene e mantenerli belli succosi. Ho preso una parte di succo di limone, vado ad aggiungere dell'olio, più o meno una parte di succo di limone e una parte di olio. Ok, il nostro rub mediterraneo, che ha dentro comunque rosmarino, salvia, maggiorana, quindi tutte quelle spezie che stanno da dio sia con il pollo che con il maiale e anche le verdure. E vado a dare una bella mescolata. Predisponiamo il barbecue per una cottura a due zone. Iniziamo mettendo gli spiedini in cottura indiretta e andiamo a spennellare il nostro bell'intingolo in modo che cucinino più o meno per una mezz'oretta a 150-180 gradi insaporendosi bene con il nostro intingolo. Passato questo tempo e controllando con un termometro che sia il pollo che il maiale abbiano raggiunto circa i 70 gradi interni andiamo a spostarli in cottura diretta per andare a creare la nostra bella crosticina. Una volta che il nostro spiedino è ben dorato, siamo pronti per mangiarcelo. Eccoci qui, dopo più o meno mezz'oretta, 40 minuti, i nostri spiedini sono pronti e perfetti. Andiamo a vedere la figata del nostro spiedino grigliere duro che io vado a schiacciare e zzzac! Ho tutto il mio spiedino già sul piatto pronto per essere mangiato e io non so scemo, quindi assaggio. La salsiccia è sempre una bomba! La prova del 9 la facciamo sempre sul pollo. Questo è proprio cottura perfetta, una vera bomba! Direi che il nostro spiedino classico ce lo siamo portati a casa. Direi che gli spiedini grigliere duro hanno superato a pieni voti il test, sono veramente fighi, sono belli resistenti. Divertitevi un sacco a creare nuovi spiedini e fateci sapere sul nostro gruppo Facebook mettendo foto tutti i vostri esperimenti. Se ti è piaciuto questo video metti mi piace, segui il nostro canale e clicca sulla campanella per rimanere aggiornato su nuovi video. Ci trovi anche su Facebook e Instagram e per tutte le informazioni www.grigliareduro.com